Carcere a vita per il benzinaio che bruciò vivo un clochard colpevole secondo lui di aver insidiato la sua compagna. Il giudice ha condannato all'ergastolo Giuseppe Pecoraro, imputato per omicidio volontario dopo aver provocato la morte di Marcello Cimino, un senza tetto che la notte del 10 marzo del 2017 stava dormendo nel suo giaciglio di fortuna sotto i portici della mensa dei poveri dei frati Cappuccini a Palermo. Le telecamere hanno ripreso l'agguato, le immagini mostrano Pecoraro che cammina con un secchio tra le mani, si avvicina a Cimino e gli versa della benzina addosso. Poi estrae dalla tasca un accendino, appicca l'incendio e fugge. Sulle sue mani e sui suoi vestiti poche ore dopo sono state trovate tracce compatibili con le modalità di esecuzione dell'omicidio. In meno di una notte di indagini la polizia ha rintracciato Pecoraro che messo alle strette ha confessato tutto. All'udienza erano presenti i familiari di Cimino, alle quattro sorelle e alle due figlie, costituite si parte civile con l'assistenza degli avvocati Antonino Palazzolo e Francesco Martorana. È stata riconosciuta una provvisionale, rispettivamente di 50.000 alle figlie e 10.000 euro ciascuno per le sorelle. Inutili i tentativi della difesa di dimostrare l'incapacità di intendere e di volere di Pecoraro. Secondo i periti in quel momento era lucido. Il PM nel corso della requisitoria ha elencato le aggravanti dell'accusa di omicidio volontario, premeditazione, futili motivi, aver agito con crudeltà e abusando della minorata difesa della vittima. A Pecoraro, da oggi anche interdetto a vita dai pubblici uffici, non è stata concessa la decadenza dell'isolamento diurno. Durante i primi interrogatori, subito dopo il fatto, si era detto pentito. Separato, lavorava come impiegato in una stazione di servizio, a pochi metri di distanza dalla struttura religiosa che frequentava con regolarità, dividendo la mensa con altri ospiti e persino con l'uomo che, secondo lui, voleva portargli via la donna. Qualche sguardo di troppo da parte di Cimino avrebbe fatto scattare in Pecoraro la furia omicida. Speriamo che la fine che ha fatto Marcello ci scuota a fare di più per i poveri, ha detto padre Cesare Rattoballi, che ha celebrato nella chiesa dell'Annunciazione del Signore i funerali di Marcello Cimino.